Ciao carissimi, brutte notizie per l'esercito ucraino e per le forze della Nato che sono dispiegati in Ucraina nel sostegno del regime di Kiev, arrivano dalla Russia, arrivano dall'industria militare russa. In pratica in Russia c'è una grande struttura, una serie di fabbriche che si chiama NPO Splav e si tratta di un'industria dedicata alla creazione dei nuovi sistemi di razzi reattivi non guidati. Voi sapete amici che ci sono una serie di armi che noi magari spesso quando leggiamo le notizie vari giornalisti oppure vari analisti che sono abituati a raccontare gli eventi stando seduti sul divano della loro mamma e non conoscono magari bene l'ambiente militare gli armamenti, i mezzi. Loro di solito chiamano missile, qualsiasi cosa che vola, che sembra un razzo con il motore, con una propulsione, per loro sono tutti missili. In realtà ci sono diversi tipi di razzi con diversi motori, ci sono razzi che sono i missili balistici intercontinentali, ci sono razzi che vengono chiamati missili balistici di corto raggio, ci sono razzi reattivi che hanno di solito una ridotta distanza di azione e ci sono razzi reattivi guidati e non guidati. Quindi il NPO SPLAV si occupa della produzione di razzi reattivi non guidati. Cosa sono razzi reattivi non guidati? Per farvi così un esempio che voi probabilmente conoscete tutti, ricordate la famosa macchina che lanciava i razzi contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale, che russi chiamavano, sovietici chiamavano Catiusha. Questa Catiusha aveva una rampa, da questa rampa venivano lanciati attraverso un impulso elettrico questi razzi che volavano nella direzione del nemico e la precisione della balistica, della traiettoria balistica di questi razzi dipendeva dalla loro caratteristica di volo, quindi loro una volta lanciati percorrono sempre la più o meno stessa distanza e per questo la rampa viene abbassata o alzata rispetto a quella linea traiettoria balistica che deve essere raggiunta rispetto alle iniziative operative. Se deve essere colpito una posizione dei nemici che si trovano, lo so, a tre chilometri, la rampa viene alzata in un tale modo che i missili fanno una traiettoria balistica e cadono più o meno in quella zona lì. Quindi non sono missili guidati che colpiscono l'obiettivo con estrema precisione. Ad esempio in Russia c'è tutta una serie di missili guidati come ad esempio il missile anticarro Kornet che adesso viene utilizzato ampiamente nella zona di guerra in Ucraina. I russi lo usano non solo come missile anticarro per distruggere i carri armati, lo utilizzano anche per colpire i blindati leggeri, blindati, trasporto truppe, ma anche per colpire i punti difesi dell'esercito ucraino. Quando i russi vedono che l'esercito ucraino ha creato all'interno di una casa, un'abitazione, un punto dove ci sono delle mitragliatrici, dove c'è un operatore con RPG che può bruciare un mezzo, loro dalla distanza di qualche chilometro lanciano questo razzo e questo razzo demolisce totalmente questa posizione perché ha un potere esplosivo molto forte e penetra anche nel cemento. Ah, e anche ha un doppio sistema di esplosione perché ha un effetto cumulativo, quindi una volta penetrato all'interno dell'abitazione crea un'altra esplosione che è ancora più potente della prima. Questo è cornet, è razzo reattivo guidato perché lui può essere guidato verso l'obiettivo durante il suo volo può anche leggermente cambiare la traiettoria per cui è molto difficile abbatterlo con armi di leggere. Dall'altro canto ci sono i razzi reattivi non guidati, sono quelli che vengono lanciati da diversi tipi di rampa, sono missili di diverse dimensioni, più diffusi sono i grad o la grandine, poi ci sono grad, uragan, tornado, ci sono diversi tipologie di questi sistemi, il principio di funzionamento più o meno è simile. C'è una macchina, su questa macchina un camion, immaginate un camion, su questo camion viene sistemata una rampa, ormai non usano più le rampe ma usano i sistemi di lancio, sono come i tubi ma comunque i russi continuano a chiamarlo rampa ricordando quello che era la prima macchina di questo tipo che era Katyusha e quindi da queste rampe vengono lanciati i missili che hanno un determinato percorso a questi missili viene dato una direzione, una traiettoria e loro cadono e colpiscono il nemico. Il sistema in assoluto più devastante di questa tipologia delle armi che i russi hanno prodotto si chiama TOS 1A, Sonsepeok, vuol dire il calore del sole, Sonsepeok vuol dire il calore del sole e lo chiamano anche in gergo militare lo chiamano buratino. Questo è un sistema che viene montato sulla base di carro armato, ha una rampa mobile che può spostarsi, può prendere qualsiasi direzione creare qualsiasi traiettoria e questo sistema lancia dei razzi non guidati, razzi reattivi non guidati con testate termobariche. Ha una devastazione terribile sul terreno, creano delle esplosioni gigantesche e la cosa più brutta è che attorno all'esplosione si crea un vuoto di ossigeno per cui le forme di vita che si trovano all'interno del raggio di azione di questo tipo di razzo muoiono per assenza dell'ossigeno nell'aria e per estremo calore. Spesso vengono trovati i cadaveri degli uomini che sono purtroppo mummificati. Chi sopravvive comunque rimane invalido perché di solito ha delle ustioni nei polmoni. Quindi persone perdono polmoni. Chi sopravvive di solito muore dopo poco tempo perché non è compatibile con la vita a quel tipo di ferita. Quindi è un sistema molto terribile e devastante. I russi l'hanno utilizzato ampiamente in Siria, hanno bruciato tantissimi terroristi islamici dell'Isis con questi sistemi, ma anche altri collaboratori terroristi degli oligarchi anglosassoni. L'unico problema di questo sistema è da sempre stato la limitata azione del razzo. Il razzo del sistema TOS purtroppo per i russi e per fortuna per i loro nemici aveva un raggio di 3-5 km. Quindi a livello operativo utilizzo di una macchina così ingombrante e poco difesa perché voi immaginate la base del carro sulla quale c'è questa rampa che di per sé non è difesa. Cioè in diretto combattimento con un carro armato non regge neanche 3 secondi, un qualsiasi carro armato lo fa saltare in 2 minuti. Questa macchina è molto quindi debole nella tattica di scontro con altre macchine militari. Può essere utilizzata solo nelle retrovie, però per utilizzarla con efficienza nelle retrovie la distanza di azione del razzo è presso poco inesistente perché 3 km a livello di tattica operativa è niente. Se da distanza di 3 km viene lanciato un razzo, bisogna essere pronti che dopo una decina di minuti vi arriva in risposta il fuoco di artilleria oppure fuoco dei razzi reattivi come Grad che sono meno distruttivi a livello di effetto ma volano più lontano e comunque possono danneggiare e distruggere una macchina come TOS-1A. Per questo motivo i russi avevano tutto un sistema di difesa di questi mezzi, si creava tutta una strategia per portare questi mezzi in prima linea e poi subito portarli via. In Siria qualche volta capitava che questi mezzi venivano colpiti dai missili della parte opposta sia in Siria che qua. In Siria non è stato distrutto nessun mezzo, è stato danneggiato uno ma non distrutto. È stato danneggiato tra l'altro con dei colpi da mortai da 120 mm. Questo è successo in Siria durante un combattimento per una serie di alture. Mentre in Ucraina l'esercito ucraino ha distrutto alcuni mezzi russi di questo tipo proprio perché si trovavano troppo vicino alla prima linea. Quindi ucraini con i droni riuscivano a vedere dove si trovano questi mezzi e subito arrivavano colpi di razzi reattivi oppure di artilleria. Adesso però i russi hanno inventato un nuovo tipo di missile per questi sistemi. Senza cambiare niente nella rampa di lancio quindi possono essere utilizzate stesse macchine però adesso hanno creato un razzo reattivo non guidato sempre con stessa testata termobarica quindi tipo di distruzione è la stessa che però vola oltre 10 km. Questo vuol dire che adesso queste macchine i russi utilizzeranno con sempre più intensità quindi riusciranno a provocare all'esercito ucraino sempre più distruzione rimanendo veramente nelle retrovie irraggiungibile all'artilleria o ai razzi del nemico riuscendo anche avere più tempo e più spazio per le loro manovre. Questo a livello tattico è una notizia veramente brutta per l'esercito ucraino perché i sistemi dei razzi reattivi TOS-1A riescono a colpire in poco tempo grandi spazi e creare su questi spazi veramente terra bruciata lì dove cadono questi razzi non si può nascondersi non c'è possibilità di nascondersi sotto terra non c'è possibilità di nascondersi nei vari rifugi perché prima cosa che comincia a sparire in quegli istanti quando si esplode questa testata è l'aria l'aria diventa rovente chi rispira questa aria si brucia i polmoni e chi si trova nella distanza, nel raggio d'azione della testata viene anche bruciato vivo per questo motivo è un'arma devastante un'arma che prima è stata utilizzata dai russi con molta attenzione proprio perché avevano timore di perdere i mezzi adesso grazie ai razzi che NPO Splav ha creato e che volano oltre 10 km sono stati già utilizzati in Ucraina sono già stati utilizzati in prima linea nella direzione di Kupiansk i russi qualche giorno fa hanno bruciato una posizione dell'esercito ucraino adesso probabilmente questi razzi verranno utilizzati molto di più con molto più intensità e questo sarà un vero colpo di sfortuna per l'esercito ucraino perché difendersi da questo tipo di munizioni non si può non esiste modo bisogna solo scappare veloce abbandonare il territorio dove cadono questi razzi sperando che rimane tempo per fuggire altrimenti se questi razzi vengono lanciati in modo da coprire un grande vasto pezzo del territorio non c'è possibilità neanche fare fuga perché in qualsiasi luogo tu corri se sono coperti non lo so 6 km quadrati dall'esplosione di questi razzi e lavorano su questi 6 km quadrati come minimo 4 macchine vuol dire che tutto ciò che esiste di vivo in questi 6 km quadrati all'istante si trasforma purtroppo in una in carbone per questo motivo cari amici attenzione a ciò che succede anche a livello tecnico in questa guerra varie industrie sia occidentali che quelle russe hanno dimostrato anche di svolgere molti sperimentazioni sul campo di battaglia e ciò che sta avvenendo adesso con il sistema TOS 1A dimostra che questi miglioramenti vengono messi subito in pratica e vengono prodotti sempre più nuove armi questa è una cosa triste perché l'essere umano avrebbe potuto investire le proprie capacità la propria intelligenza le proprie risorse nella creazione di qualcosa di utile per la vita e non nella creazione delle terribili macchine di morte io non sono mai d'accordo con il fatto che noi investiamo nella creazione della morte è veramente una cosa disastrosa quando viviamo nel mondo dove ogni giorno muoiono i bambini per le malattie per la fame quando ci sono tipologie di malattie che avrebbero potuto già essere sconfitti per sempre e non sono sconfitti solo perché ai potenti di questo mondo non conviene lavorare per l'interesse della società per l'interesse dell'umanità loro lavorano per l'interesse proprio costruendo macchine di morte massacrando la gente portando la nostra società sempre indietro e non volendo progredire questa è una cosa triste grazie cari amici per essere stati qui con me vi invito di commentare i miei video di iscrivervi ai miei canali se avete l'interesse di vedere qualcosa che sta succedendo a livello operativo o di leggere qualche notizia che per motivo di di vieti che ci sono nei social come facebook oppure youtube o instagram io vi invito di iscrivervi al mio canale telegram un canale ufficiale Nicola e Lilian li troverete tantissimi video tantissimi approfondimenti grazie per essere stati qui con me vi mando un forte abbraccio grazie a tutti